Guarda se sai, adesso nel lobby E ciao a tutti ragazzi e ragazzi e benvenuti per ritornati in questo nuovo video Oggi faremo un prank ad un mio amico e gli dirò che voglio chiudere il canale E niente, iniziamo Metti pronto Mentre stai facendo il provino ti dovrei anche dire una cosa Cosa? Andiamo in partita e te lo dico Questo non è il volume Ah beh Ragazzi mi sono mutata, speriamo che ci caschi Ora mi smuto e andiamo in partita No, io sono viola Stavo accendo il provino quindi Certo Sì, dovevo andare Ok Andrò a caso 1, 2, 3 a caso Andrò a bugger Io vado a start Se riesci puoi ammazzarmi Iron Man Ma no Dai ti prego di fare una missione per favore Ci provo Grazie Perché è difficilissimo, non riesco mai ad ammazzarlo io Casomai se non ci riesco il prossimo partito lo facciamo Quante possibilità ora che ci penso 1, 2, 3 Ok La parola avrei detto Eh vabbè Eh vabbè Eh vabbè La parola durante Le mie partite Dopo magari sono là Il miele Thomas Sì Comunque ti devo dire questa cosa Intanto che non stai faltando Almeno credo No 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 Ok E che praticamente Cioè io sto per arrivare a 200 iscritti su Youtube no? Eh Eh però i miei video Ah Vabbè La piccola Ah Il mio scopo Vabbè I miei video non stanno No Non trollare Ecco No Dai Non ho smarato Il secco Ti avevo detto di non trollare Che sono stato Che scemo Adesso Non trollare Non trollare Mi sembrava la bissima Quindi No non trollare Va bene Eh continua Intanto Comunque i miei video Non stanno Andando così bene Cioè Si faccio Perché ha quanti visual ti fai? Tante views Si però Cioè Sulle 10-20 E conta che ho quasi 200 iscritti Quindi vorresti fare più visual Si Cioè Difficile Difficile Anche se la gente non guarda i video A me l'hai iscritta Eh si ma a me interessa che guarda in vivo Vabbè comunque Ah beh no Io avrei pensato Vuoi fare un video ora Live provino agli amico? No no Magari fa visual Quelle delle live hanno avuto abbastanza Aspetta Volevo fare Cioè Ho preso una decisione Scusa un attimo Se l'ha detto che ho ammazzato prima Vieni Vabbè vai Scusami Dimi Dimi Comunque Niente Mi succede Comunque Eh Ho preso la decisione Di chiudere il canale No no Non ti fa Cioè non faccio il visual Non faccio nulla Beh le visual non mi fai Dai ci racconta Almeno di quelle persone Io non ti consiglio Di chiudere il canale Sì però Cioè O aprirlo E poi considera Che magari Non fai tante visual Per comunque Eh Da colt No non vuole Dipende Dipende cosa mi dici Oh Vabbè Brian Te la dico anche a te Questa cosa Che aveva detto pure A filo Vuole chiudere il canale YouTube Bru Grande Così ti vuole Ma cosa Ma proprio Eh c'è 200 Quasi 200 iscritti Vaffanculo Brian Ma Perché è abbandonato Cioè è tutto confuso Eh Ma cosa hai detto Non ho detto niente Andi Ah È scherzo La dozza Vabbè Come mia sorella Non capisci Brian Se metti pronto Ti muovo dagli amici Eh No no Non metto Anche se per sbaglio Comunque Eh Oddio Mi piace Buona col piede Fra Volevo appunto Chiudere il canale Provi Dove pure Dire un'altra cosa Sì Cosa Che qualcuno Vi vuole salutare Che YouTube Sto registrando È un prank Si sono rimasto malissimo Cioè poi quando Quando avevi messo la musica Io mi ero incacchiata Che mi davano il copyright Ecco perché Minutiamo Vogliamo All'errore Ciao 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 Adesso ti rimuove dai amici Vai 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 Ok Guardi Sono Prova E ragazzi spero che questo troll vi sia piaciuto e se volete un video del provino lasciate un bel like, iscrivetevi, noi ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!